Molti mi chiedono come comportarsi per fare un preventivo. La cosa fondamentale di un preventivo che sta nel nome PRE è quella di farlo prima di fare il lavoro. Quindi qui sta anche la difficoltà. Allora è importante, lo dico come me, anche per chi magari inizia, di non mettersi a fare prima il lavoro. Perché andate a mettervi nei guai. Perché cosa succede? Se voi lavorate, create il vostro progetto, lo realizzate per il vostro cliente, committente, mettete avanti già una parte consistente di ore, di materiale e dopo avete il problema di dire, ma quanto gli faccio pagare? Ci ho lavorato dei giorni. Allora, so che è difficile, ma conviene prima di partire provare a fare un'ipotesi. L'ipotesi vuol dire mettersi lì e con quello che si sa, allora intanto la cosa più facile è andare a conteggiare il materiale. Fate l'elenco del materiale che vi serve per il progetto e con un Excel ve lo potete gestire. Quindi segnate i pezzi, il prezzo e la quantità e avete un totale del materiale. Il costo del materiale solitamente viene aumentato di quello che si chiama un markup, quindi andate a moltiplicarlo per un 2, 2,5 o 3 a seconda del valore del materiale, della difficoltà che avete avuto nel recuperarlo e anche nell'esposizione economica vostra. La parte difficile è valutare il tempo. Di solito su questi lavori non è tanto il materiale, ma il tempo che ci mettete, che può essere di ore, ma a volte anche di giorni o settimane. Qua bisogna creare un piano, quindi il vostro lavoro iniziale non è quello di fare, è quello di ipotizzare sulla carta e provare a pensare quante ore ci metterete per svolgere le varie attività. Se non avete esperienza, conviene magari chiedere a un amico, qualcuno un po' più esperto, se vi dà qualche dritta. L'unica cosa ammessa in questa fase di preventivo, cioè l'unica attività pratica ammessa in questa fase di preventivo, è quella, eventualmente, se ci sono delle parti molto critiche, di provare prima a vedere se siete in grado di almeno muovere i primi passi. Per esempio, se devo andare a leggere i dati da una scheda SD e non l'ho mai fatto, provo a prendere un lettore e una scheda SD e provo a fare un legge e scrivi per capire se la cosa funziona. Quindi individuate subito le parti più critiche, più difficoltose, perché sono quelle che vi possono anche dire sì, ce la faccio a farti questa cosa, oppure no. Per cui, se vedete che non ci riuscite ed è troppo difficile, lasciate perdere, alzate le mani. Fate sicuramente meno brutta figura, perché altrimenti poi dopo dovreste andare a cercare qualcuno che vi toglie le castagne dal fuoco, come si dice. Bene, fatto questo, vi mettete lì il materiale col mercap, l'ipotesi delle ore, vi date un costo orario. Anche qui dipende dalla vostra esperienza. Se partite da zero, magari tenetevi bassi e quindi il costo orario mettete una decina, una ventina di euro a salire a seconda dell'esperienza. Tenete conto che un programmatore bravo o esperto, di solito viene pagato tra le 200, 300, 500 euro al giorno, dipende anche qui dalla bravura e da come si piazza. Lo stesso per un progettista hardware, se siete alle prime armi, tenetevi con una tariffa bassa e poi eventualmente vi potete alzare. Non è facile trovare una tariffa, è chiaro. Provateci, anche qua, guardatevi intorno e cercate di capire quanto vale l'onore del vostro lavoro. Qui c'è una considerazione da fare. Capita a volte che voi date il preventivo, il committente accetta e poi magari non si fa più vedere, quindi vi lascia il lavoro sul gobo. Questo rischio è tanto maggiore quanto più materiale avete acquistato, quindi avete a magazzino, e soprattutto tanto più grande il lavoro. Allora, cosa conviene fare? Conviene anche per vantaggio suo dividerlo in tranche, per cui fate in modo di farvi pagare una prima tranche prima di partire, prima dell'inizio del lavoro. Questa tranche deve pagare almeno il materiale, in modo che se questo scappa avete il materiale pagato. Invece per agevolare lui nei pagamenti, se ovviamente come ho già detto il costo del progetto è notevole, quindi magari datevi una cifra sopra i 300 euro, utilizzo questo approccio, altrimenti vado in buona fede. Anche perché fate più bella figura, perché chiedere l'anticipo di 50 euro per il materiale, insomma è un po' diciamo da barboni, a volte. Dipende sempre dalle cifre, tutto è relativo. Comunque, per agevolare poi il vostro cliente potete eventualmente fare delle tranche di pagamento, quindi l'anticipo che vi permette di partire, quindi acquistare il materiale e iniziare i lavori. Eventualmente a metà lavori un secondo pagamento e poi alla fine del lavoro l'ultimo pagamento, che corona il lavoro e di solito si fa a fronte di una dimostrazione che il lavoro è andato bene. Spero queste indicazioni siano state utili per darvi almeno un'idea. Bene, come sempre vi saluto, vi ringrazio e ci vediamo domani. Ciao!